...e quello qualifica l'interesse pubblico, quindi noi con questa delibera qualificheremo l'interesse pubblico dell'appunto e diamo l'avvio in una fase decisiva del progetto. Quando teni inizierà la discussione domani? Domani ci sono delibere regolamentari, quindi è al netto che non si chiedano dare quelle parti dei gruppi dell'opposizione, perché tutto è possibile e legittimo, si potrebbe già iniziare domani. Però noi abbiamo voluto, è improbabile, però noi abbiamo messo lo stesso ordine dei lavori sia giovedì che martedì, poche delibere perché pensiamo per martedì di poterla licenziare. Quella sullo stadio martedì si potrebbe licenziare? Allora, io ovviamente tutte le delibere regolamentari sono passibili di richiesta di deroga, quindi siccome iniziamo con la delibera deroga regolamentare, se qualcuno dell'opposizione chiedesse la deroga gli va legittimamente data, quindi chiedendo la deroga presumibilmente domani non si fa lo stadio, si potrebbe fare però più presumibilmente martedì. La cosa però importante è che la Presidente Baglio ha voluto fare chiarezza, cioè dice mettiamo poche delibere all'ordine dei lavori, in modo tale che si possa lavorare con quelle e concentrarsi su quelle delibere, in poche sedute e con quelle, quindi è chiaro che fino a quando non sarà chiuso quest'ordine dei lavori l'unica delibere...